Vai, destra 6, destra 5, occhio a muro sinistra 2, poi destra 2, destra 2, dai, poi un accenno destro, destra 4, destra 3, poi vai fino al muro, muro sinistra 2, poi destra 4, poi 100, arrivi destra 6, occhio al muro sinistra 2, sinistra 2, destra 4, poi destra 6, e vai fino al re, sinistra 6, poi sinistra 6 al muro, sinistra 4, sinistra 4, occhio al muro, 100, destra 3, destra 5, occhio d'ossi, sinistra 4, con il destra 4, 2, poi 100, butta giù 100, arriverà in sinistra 6, ecco la postazione, sinistra 6, dai, 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 poi al muro destra 6, ancora destra 6, ancora, ancora destra 6, al muro sinistra 3, sinistra 3, sinistra 2, hai un accenno sinistra per destra 5, occhio sinistra 2, sinistra 5, questo è il destra 1, destra 1, e il destra 6 doppia, questo è il 6 doppia fino al muro, al muro destra 2, quello qua al muro destra 2, che è il 50, una casa rossa sinistra 3, questo è un 3, 30, il cielo sinistro, il destra 2, ecco il destra 2, sinistra 6, chiude il 3, chiude il 3, il destra 2, alla casa sinistra 4, 30, occhio al re, destra 2, 2, occhio sinistra 2, per destra 3 doppia, destra 3 doppia, occhio al destra 2, 5, sinistra 4, come si porca qua, sinistra 4, occhio d'ossi, 50, facendo destra, 50, facendo destra per sinistra 6, l'occhio qui c'è la macchina qua, e muta su, muta su, l'accendo destro per sinistra 2, lunga, per destra 4 doppia, vai poi arrivi al sinistra 4, sinistra 4, destra 3, per occhio sinistra 2, taglia, sinistra 3, sinistra 2, 50, e sinistra 6, per destra 5, 50, sinistra 3, occhio, sinistra 3, occhio, destra 3 doppia, facendo sinistra 4, 20, destra 6, 50, sinistra 5, destra 5, destra 6, sinistra 5, 50, occhio, destra 2, per sinistra 2, per sinistra 2, occhio, per sinistra 2, capendo perché sei ok, per sinistra 5, per sinistra 3, a muro a sinistra 2, per sinistra 3 doppia, occhio, per sinistra, occhio, sinistra 2, gira, occhio, destra 2, vai 20, destra 3, per sinistra 3, destra 3, per sinistra 3, destra 4, chiude 2, sta interno, e 2, sta interno, occhio, per sinistra 1, arrivo per sinistra 1, arrivo per sinistra 1, arrivo per sinistra 4, doppia, arrivo per sinistra 1, sinistra 2, destra 4, 30, 30, arrivo per sinistra 4, accenno destro, dai dai dai, accenno destro per destra 3, occhio sinistra 2, destra 4, doppia, sinistra 4, occhio d'ossi, sinistra 4, occhio d'ossi, destra 5, 50, sinistra 5, 5, 5, destra 6, 100, arriva veloce, tutta lì, cento, arrivo per destra 4, poi, va giù, destra 4, sinistra 4, inversione occhio, destra 2, più un po' di inversione, destra 6, ecco, sinistra 6, destra 4, occhio sporco, sinistra 5, per sinistra 5, vai 50, 50, sinistra 4, occhio a lei, sinistra 2, 30, destra 4, per destra 2, per destra 2, per destra 2, occhio sinistra 2, 30, sinistra 5, destra 3, vai, ho il sinistra 3, sinistra 3, 50, occhio sinistra 2, ecco il sinistra 2, 50, alla rete destra 4, destra 4 c'è 50, vai, butta la rete, butta c'è 50, 50, 50, vai, destra 3, per destra 2, più sinistra 2, destra 3, per destra 3, per destra 3, occhio vai giù, vai giù, ora, destra 3 ancora, preso fino al video, destra, via testa per il filo PS, ancora, 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 molla, 13 minuti e mezzo, 13 minuti e mezzo, eh? 13 minuti e mezzo,